Anche le Marche pronte per il Vax Day a meno di un anno dallo scoppio del primo focolaio di coronavirus sono partite ieri le vaccinazioni. Nella nostra regione sono arrivate 200 dosi distribuite grazie a una staffetta della polizia stradale nei vari punti individuati tra ospedali e residenze per anziani. A Marche Nord le prime due testimonial sono state l'infermiera 34enne Elisa Burzacchi e la dottoressa Margherita Lambertini, 53 anni, medico del pronto soccorso. Il suo viso, ritratto con i segni profondi lasciati non solo dalla mascherina ma anche da tanta stanchezza e sofferenza, aveva fatto il giro del mondo nella prima ondata della pandemia assieme ai volti dei colleghi dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, protagonisti del reportage fotografico di Alberto Giuliani. A vaccinarsi anche il direttore sanitario Edoardo Berselli, oltre ad altri dipendenti di Marche Nord, come Claudio Cicoli, primario di ostetricia e ginecologia. Sono fiero di essere stato uno dei primi per dare una testimonianza a questo V-Day dove esorto tutti quanti di vaccinarsi e di fare praticamente quel gesto che io ho fatto ieri. L'ho fatto perché abbiamo vissuto dei momenti tradici. Se noi ritorniamo indietro nei mesi, febbraio, marzo, aprile, abbiamo vissuto dei momenti tradici dove abbiamo perso delle persone care. Questa intervista voglio ricordare due persone a me care. Uno Carlo Amodio e l'altro Ugo Lini, il pneumologo di Pesaro. Due cari amici che purtroppo ci hanno lasciato che se oggi praticamente fossero stati con noi saremmo stati i primi a vaccinarsi. Credo nella vaccinazione, ha proseguito il primario, perché appartengo a quella generazione che ha vissuto il periodo in cui si diffusero il vaiolo e la poliomelite che provocava paralisi soprattutto sui bambini. Oggi, ha detto Cicoli, il Covid deve essere debellato con il vaccino, ma molte persone sono mal informate. È assurdo quello che ho letto ieri, che qualcuno commentava dietro praticamente su Facebook, sui network, che noi che abbiamo fatto la vaccinazione dobbiamo stare in quarantena perché siamo stati iniettati col virus. Il virus non c'entra nulla. Quello che è stato iniettato è l'antigene, il corpo, l'RNA preso sul DNA del virus, che fa anticorpi, che va a uccidere praticamente il DNA del virus. E gli effetti collaterali? Effetti collaterali? Io non sono un soggetto allergico, per cui non ho neanche il dolore nel punto in cui è stato iniettato il vaccino, cosa che può succedere. Io ieri sono tornato a casa, ho avuto la mia quotidianità, non ho avuto nessun rialzo febbrile, nessun sintomo strano, brividi, niente. Quindi stamattina sono venuto al lavoro. E in totale ieri sono stati 35 gli operatori sanitari che si sono sottoposti all'iniezione nella provincia pesarese, in 20 si sono vaccinati a San Salvatore e in 15 all'ospedale di Urbino per l'area Vasta 1. Diversi coloro che hanno pubblicato le immagini sui social network, come Umberto Gnudi, primario del pronto soccorso, che ha scritto, se vedere questa foto serve a convincere anche solo una persona in più, sarà valsa la pena postarla. Stiamo andando verso la luce, resistiamo e camminiamo. Un passo alla volta siamo sulla strada giusta. L'unica incertezza, ha aggiunto Cicoli questa mattina, è la durata della protezione. Io spero che, come tutti gli altri vaccini, praticamente questi vaccini ci diano una copertura il più possibile negli anni, come ad esempio anche l'antitetanica, va fatta una volta ogni dieci anni. non sarebbe niente di male se dovesse ripetere a distanza di qualche anno.